Giuseppe Sacco, 74 anni e postino in pensione, residente in uno dei più fabbricati di Bien Bimbo. Stamane è dovuto ricorrere alla cura del pronto soccorso dell'ospedale Moscati perché una zecca si era attaccata alla cute. Cinque giorni di prognosi e farmaci per evitare l'infezione. I residenti segnalano anche altri casi di aggressione, di parassiti a Bien Bimbo, dove l'erba alta e il caldo di questi giorni ha reso invivibile la zona. L'appello dell'anziano alle autorità sanitarie per la bonifica urgente dell'aria. Io stamattina quando mi sono alzato per lavarmi, per vestirmi perché dovevo uscire, dovevo andare dal dentista, nel lavarmi mi sono tolto la cannottiera per cambiarla, sul lato sinistro ho visto una cosa che pendeva, mi sono guardato, pensavo che io dove c'ho dei nei, pensavo che era un nei che si era infiammato, invece no, era una zecca. Ora sono ricorso al pronto soccorso di Avellini in ospedale, mi hanno verificato che è una zecca e qua c'è la diagnosi. Sì, infatti leggiamo dalla cartella clinica, puntura di zecca al piano sinistro, rimozione del parassita e disinfezione. E a questo punto qua, non lo so, uno non ha nemmeno il diritto più di prendere un poco d'aria, non può nemmeno uscire. Addirittura le zecche si attaccano alle pareti e salgono, cioè addirittura possono entrare pure negli appartamenti a questo punto qua. A questo punto l'appello è anche a Slastra, considerando pure questo intervento da parte dell'azienda Moscati, a maggior ragione l'azienda sanitaria deve intervenire. Certamente che l'appello è anche a Slastra che deve intervenire perché non si può vivere così. Qua già da tempo giravano topi, serpenti, adesso addirittura girano anche le zecche, cioè a questo punto qua non lo so. Se vuoi devono invadere anche le case, e va bene. E a rischio sia stare dentro che uscire. E appunto qua non si può né stare dentro né uscire perché non si sa come regolarsi e come bisogna...